Siamo con Gianni Beskin, seconda stagione qui alla Rossanese, la prima di transizione, adesso si fa sul serio, quali sono le tue impressioni? La cosa bella dopo due anni di esperienza è che siamo qua, convinti di fare una stagione programmata fin dall'inizio per ambire a un qualcosa di positivo, nel calcio non si sa mai niente, però l'anno scorso abbiamo fatto bene con quattro ragazzini che siamo stati bravi a valorizzare e loro sono stati bravi a rispondere a quello che noi abbiamo avuto modo di fare nei loro confronti. Quest'anno siamo partiti con la consapevolezza che con l'innesto di alcune pedine di una certa esperienza vissuta in campionati fatti in zona e anche fuori dalla Calabria, perché abbiamo nomi importanti che giocano con noi quest'anno, abbiamo l'ambizione di poter puntare a qualcosa che possa dar seguito all'inizio dell'anno scorso, con il proseguo di quest'anno, ma soprattutto con un programma che ci consentirà di guardare al futuro con più ottimismo. Restando in questo campionato ti aspettavi il cammino effettuato fino a questo momento? Ma dopo un avvio non certamente esaltante all'inizio, perché questo dovuto sicuramente a degli infortuni che ci hanno condizionati, ma credo che dopo che siamo riusciti a recuperare questi infortunati, credo che il nostro percorso sia andato via con una regolarità tale che dimostra che la nostra situazione tecnica che in questa società, in questa squadra abbiamo, ci sta dando queste conferme. Quindi siamo fiduciosi che in questo modo si possa arrivare alla fine e poi vedremo quali saranno le posizioni di classifica che avremo noi, con tutto rispetto del Belvedere che è un'altra signora società, a rispetto del Praia che è un'altra signora società e quindi lo stimolo di far bene fino in fondo ce l'avremo tutti. A Beskin non posso che non chiedere un giudizio sulla classe arbitrale di quest'anno. Ma gli arbitri quest'anno ne ho visti pochi con futuribilità. Allora mi spiego meglio. Arbitri che sanno arbitrare la partita del momento bene o male si equivalgono, sono abbastanza uniformi nel loro modo di porsi. Però quelli che io arbitralmente con occhio da ex arbitro vedo con proiezione futura ne ho visti pochi. Ne ho visti pochi, li conti su una mano. Quindi i dirigenti arbitrali della regione devono lavorarci bene, devono essere consapevoli che se vogliono puntare a un orgoglio regionale con qualche arbitro che arrivi alle massime categorie devono partire bene dalla base. Un'ultima cosa, ritorniamo alla squadra. Il 4 si aprono le liste, si apre il mercato invernale, farà qualcosa alla Rossanese in questo senso? Io parlando con Sifonetti e con il mister, dove abbiamo sempre motivo ogni settimana di sentirci e di confrontarci sulle situazioni e di mercato e di quello che è l'andamento del campionato, io credo che salvo qualche under che sono sempre appetibili per tutti, ma credo che per il resto la rosa sia completa così. Abbiamo fiducia nei ragazzi che abbiamo, siamo consapevoli fin dall'inizio delle scelte che abbiamo fatto, quindi spero e credo che tutto questo ci porterà alla fine ad avere le soddisfazioni che meritiamo.